professore si sta correndo il giro d'italia cosa serve per vincerlo allora per vincere il giro d'italia prima cosa servono degli ottimi atleti e molto ben allenati poi chiaramente essendo tutti professionisti e partendo tutti da un livello molto alto di allenamento tutte le accortezze sono importanti nel determinare la prestazione finale quindi trattandosi del giro d'italia trattandosi di ciclismo chiaramente l'attrezzo che usano la bicicletta deve essere ottimizzato da tutti i punti di vista quello meccanico con l'aerodinamico e anche il resto dell'attrezzatura le ruote i guanti il tessuto dei vestiti i vestiti stessi il casco e così via noi in particolare ci occupiamo di tessuti di tute e quindi anche la tuta stessa e l'abbigliamento è una parte molto significativa nel determinare la prestazione finale stiamo parlando di poche differenze ma stiamo parlando di differenze che a livello professionistico sono sicuramente importanti e significative e a proposito di tutte una squadra che indossava una tuta testata da voi ha vinto la tappa giusto sì la tappa crono squadra del giro d'italia a verona è stata vinta da una squadra che in collaborazione con la diritta produttrice di tessuti ha provato qui da noi testando le in gallerie del vento e andando a ottimizzare la distribuzione di tessuto del body stesso saranno i body che poi utilizzerà anche nazionale italiana alle prossime olimpiadi sia nel ciclismo su strada che nel ciclismo su pista e come si prova una tuta in galleria del vento allora prima della tuta si prova il tessuto quindi partiamo da una geometria fissa un cilindro e su vestiamo il cilindro con dei tessuti diversi che tipicamente differiscono per permeabilità all'aria e per rugosità superficiale da lì tiriamo fuori un database iniziale e quello è il nostro punto di riferimento la tuta è fatta da più pezzi chiaramente cuciti o meglio ultimamente incollati tra di loro e a seconda delle curvature che ha il corpo e che ha l'atleta nelle diverse posizioni che le diverse discipline impongono si vanno a cambiare i livelli di rugosità superficiale del tessuto nella tuta stessa sostanzialmente la tuta è un patchwork e ognuna delle toppe che compongono il patchwork ha la sua rugosità specifica pensata per la posizione del corpo in cui si troverà quindi passiamo dal caso generale dal caso di geometria fissa il cilindro ha una geometria variabile adeguata e adattata ogni singolo sport è più facile nel caso della bicicletta perché il mezzo guida la posizione dell'atleta lo vincola sostanzialmente a stare in una posizione predeterminata è più complesso farlo nello sci alpino perché l'atleta deve avere la capacità di restare in una posizione fissa e costante lo aiutiamo con delle telecamere con i tecnici che gli fanno rivedere anche gli errori che fanno quindi è anche una sorta di allenamento mantenere la posizione di massima velocità insieme al provare e i tessuti e le tute e anche l'attrezzatura in generale e che prospettive vede per migliorare le performance future in questo ambito allora le prospettive di ricerca diciamo i progetti di ricerca che abbiamo noi è passare dall'atleta cioè da un essere umano che modifica la sua posizione a una condizione fissa di prova quindi usare dei manichini e usare dei manichini strumentati ovviamente non posso misurare la distribuzione di pressione su una persona posso però strumentare un manichino in modo da descrivere meglio l'interazione che c'è tra il fluido e l'atleta stesso un aspetto per dire molto interessante che insieme ai colleghi di chimica stiamo seguendo è l'idea di usare dei tessuti che cambiano la loro forma a seconda della temperatura che ci si trova per cui un tessuto molto performante dal punto di vista dell'aerodinamica mentre l'atleta parliamo dello scenario segnatamente mentre l'atleta viaggia e gareggia e che se cade diventa ruvido di colpo in modo da aiutarlo dal punto di vista della sicurezza a fermarsi grazie per la visione